voi siete dual harmony il suo punto forte qual è nella danza che è molto fluida è iniziata vedendo il saggio di mia cugina sì e ho capito che quella sarebbe stata la mia passione infatti da quel momento iniziato danza e ora la continua e mi piace molto si diciamo che ci mette il massimo impegno e mia madre è un punto di riferimento perché quando qualcosa ho un dubbio qualcosa da chiedere e mi rivolgo subito a lei che mi dà sempre consigli e mi aspetto a una crescita professionale proprio parlando professionalmente noi vediamo insieme la un'altra esibizione Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.